Il nostro elicottero Siamo immediatamente arrivati con le barche Abbiamo recuperato la salma E adesso stiamo attendendo Tutte le pratiche burocratiche Intorno alle trovate Ma qua non ti dà preavvisi? Devo io una No, no Non ti dà Non ti dico perché Un video di fuoco Chiamolo quello di polizia E avete perso un ruoto di 100 metri Io non l'ho visto Non ti dico 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 Perciò Perciò Non ti dico Perciò